Della tua musica che subito ci ha convinto, ci ha conquistato, tu hai queste sonorità così che anche spaziano, vanno anche lontano dalla Calabria, dall'Italia se vogliamo Wow! Wow! E soprattutto ti faccio veramente un grossissimo in bocca al lupo perché quando sei venuta a trovarci hai detto che appunto avevi voglia di riprendere a fare musica perché comunque l'hai fatta in passato anche con spazi importanti, riconoscimenti importanti, quindi io sto incrociando, guarda le dita per te e naturalmente speriamo succeda qualcosa, è iniziato anche un calo delle temperature, saremo a vedere e qualcuno questa mattina mi ha detto ma speriamo perché dicembre con così il freddo, la neve, fa più atmosfera Sì, da arrivare quest'inverno, noi lo aspettiamo, intanto lo celebriamo in questa canzone Wow! Non vedevo l'ora di ascoltarla ma soprattutto di farla ascoltare ai nostri amici perché ovviamente me l'avevi già girata io ti faccio un grossissimo in bocca al lupo e ti auguro anche tante cose belle Grazie a tutti!